Occhio alla punizione! Pulgarra, respinge Audero, poi Vlaovic, pallone che forse è entrato, allontana la difesa della Sampdoria, ferma il gioco Maresca e indica la rete di Online Technology per l'1-1 della Corentina, il colpo di testa di Vlaovic con Audero che devia il pallone dopo che la pallone era già entrata di diversi centimetri. Eccolo qui, 1-1, tutto da rifare per la Sampdoria. Eccolo alla Fiorentina, la fondo con Castrovilli che controlla a cross, difesa dallo spezzacca lontana Amrabat, la metti giù, poi il tentativo di Castrovilli che salva in campo. Il pallone per Vlaovic, il vantaggio della Fiorentina, il gol di Vlaovic ma la palla è uscita secondo Calvarese e il gol non è valido. Si rivede la posizione di Castrovilli, buona, rimangono dubbi sul fatto se la palla sia uscita oppure no. Barra in corso con review di quanto è successo. Il gol è convalidato, è buono il gol della Fiorentina. Castrovilli è riuscito a tenere in campo il pallone e servire l'assess per Vlaovic, Fiorentina avanti 1-0 sullo Spezia. E Seric, appoggio in mezzo, palla di ritorno ancora per il numero 92 che allarga a sinistra dove c'è molto spazio per l'affondo da parte di Biraghi. Cross passo di Biraghi, velo di Vlaovic, poi rimpallo, Castrovilli! Il raddoppio della Fiorentina, quinto gol stagionale per il numero 10, di azione di Smaeghi che beffa definitivamente il portiere proprio è Delma. Il 2-0 Fiorentina, la firma di Castrovilli. Il 3-0 Fiorentina, la partita chiude così con il primo centro stagionale del francese. Assist di Vlaovic, di Seric, in sacca nella porta praticamente vuota ed è 3-0 Fiorentina. E partita chiusa allo Stadio Franchi.